Ci sono più messaggi con questa vittura. D'abord c'è un nuovo linguaggio formale per Renault Design. Ci sono delle forme molto più fluide, sensuali e più emozionali. E' l'annuncio di una nuova identità per quanto riguarda il frontale Renault. Quindi trovate il logo Renault più grande, su un fondo noire che gioca graficamente con i progettori. Che si allineano ai progettori, integrandoli. E questo troverete su tutti i futuri Renault questa nuova identità di Façava. Su tutti i nuovi frontali delle auto Renault troveremo questo nuovo design del frontale. E poi c'è un messaggio chiave di Désir. Il messaggio chiave di Désir. Che vuol dire che una voiture elettrica può essere molto emozionale. Un veicolo elettrico ma allo stesso tempo molto emozionale. C'è un messaggio di Désir che ha lavorato su questa nuova Clio. Quindi assolutamente sì, Désir annuncia il futuro di Renault. Si cerca una coerenza del design entre Désir, la prossima Clio e, bien entendu, d'autres veicoli che seguireanno. che quindi lega Désir ai futuri veicoli che usciranno partendo da Clio. E' un design che esprime passione per i veicoli elettrici e termici. Ciò che sarà comune quindi sia ai veicoli elettrici che termici. Come avete visto al Mondiale di Parigi, abbiamo presentato non solo un Désir elettrico, ma anche un Zoé Preview elettrico, che montano il nostro veicolo di grande serie a la taille di una Clio, ma elettrica. Con questa veicola, Zoé Preview, abbiamo già una gamba. con Zoé Preview, quindi il Kangoo Fluence Electric e Zoé Electric, più Twizy, il nostro obgetto urbano. Abbiamo quindi un'altra gamba di veicoli elettrici.